A me è simpatico, Gary. Dottor Dende, vuoro fretta, mi puoi ascoltare? Iniziamo la partita alle sette e mezza e se tu non vieni perché c'è Gary, beh, allora... Devo lasciarti. Mi è sfuggito qualcosa. Si richiede una radiografia alla testa per un amorso alla mano. Il paziente ha partecipato a una rissa. Era cosciente quando è stato ammesso alle sei. Alle sei di mattina. Di questa mattina, quando ho cominciato il tourno. E dov'è adesso? Vorrei vederlo. L'hanno spostato una delle infermiere sicuramente. Mi chiami quando lo trova. Certo. Subito. Senti, Cora, mi fai un favore, mi ritracci un paziente? Sì, Anna, certo. Edward Solomon? Sì. Non è... Non è...